NEN Energia conviene oppure no? Se segui questo canale molto probabilmente sai che questo non è il primo video che pubblico su NEN Energia Ne ho parlato infatti la prima volta quando ho deciso io stesso di provare questo fornitore di luce e gas per le strutture che affitto su Airbnb e Booking nel video intitolato NEN come funziona e poi ne ho parlato a distanza di un anno con il video NEN recensioni in cui ho condiviso e raccontato quella che è stata la mia esperienza ad un anno di distanza da quando ho deciso di passare a NEN infine in realtà ho parlato di NEN nel video dedicato ad Octopus Energia Italia ti lascio tutti questi video linkati qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione oggi dunque voglio condividere con te quella che è la mia risposta alla domanda NEN conviene oppure no? prima di tutto però un'informazione utile per tutte quelle persone che stanno valutando NEN se stai pensando di passare a NEN Energia infatti fino al 23 agosto 2024 utilizzando il link che trovi in descrizione oppure il codice invito BAGOLARO232 potrai ottenere uno sconto di 42 euro su ogni fornitura attivata che ti verranno riconosciuti come sconto in fatture NEN offre in realtà quasi sempre un codice sconto ma solitamente questo sconto è molto più basso sfruttare dunque questo momento per chi fosse interessato a cambiare fornitore ti permetterà di ottenere uno sconto maggiore pari a 3,50 euro al mese invece di uno sconto di 1 euro al mese una volta che sarai cliente NEN inoltre avrai a tua disposizione la possibilità di condividere il tuo codice sconto invitare altre persone e risparmiare ottenere uno sconto per ogni persona che attiverà una fornitura con NEN possiamo attivare contemporaneamente massimo 10 codici sconto oltre la decima persona che usa il nostro codice invito noi non avremo nessuno sconto aggiuntivo ma tutte le persone che inviteremo continueranno ad ottenere il loro sconto in pratica se io attivassi 10 persone durante questo periodo in cui viene proposto uno sconto di 42 euro potrei arrivare a risparmiare fino a 420 euro fatta questa piccola premessa cerchiamo quindi di capire se e quando NEN energia conviene visto che su questo argomento ci sono diversi pareri contrastanti il primo vantaggio di NEN è sicuramente quello di sapere esattamente quanto andremo a pagare ogni mese per la bolletta di luce o di gas alcuni pensano però che questo prezzo sia svincolato da quelli che sono i nostri consumi in realtà non è così perché il preventivo che ci viene fatto da NEN è un preventivo che si basa su quelli che sono i nostri consumi relativi all'anno precedente motivo per cui per ottenere la stima della nostra rata dobbiamo caricare l'ultima bolletta che abbiamo ricevuto il prezzo quindi che andremo a pagare nei 12 mesi rimarrà invariato per 12 mesi ma possiamo dire che è valido a parità di consumi questo significa che se i consumi saranno uguali all'anno precedente la nostra rata sarà confermata se i consumi saranno più elevati invece la rata che ci verrà proposta per i 12 mesi successivi sarà più alta perché sarà composta dal costo dei consumi stimati per l'anno successivo più la ripartizione di quanto non abbiamo pagato l'anno precedente pur avendolo consumato per capire questo concetto immagina di caricare una bolletta dove il tuo consumo anno di luce è pari a 4000 kW ottieni quindi il tuo preventivo con la rata mensile da pagare e passi a NEN a questo punto per 12 mesi avrai il prezzo bloccato con la rata che già conosci indipendentemente dai tuoi consumi se però durante l'anno consumerai ad esempio 4500 kW il costo di questi 500 kW in più che hai consumato rispetto alla bolletta caricata e ai consumi dell'anno precedente verrà spalmato nelle rate dell'anno successivo oppure nel caso in cui cambierai fornitore pagherai una fattura di conguaglio viceversa se i consumi saranno più bassi il preventivo per l'anno successivo si baserà ovviamente sui consumi reali e quindi potrebbe essere più basso come spiega la stessa NEN infatti finché rimaniamo con NEN Energia non dovremo pagare il conguaglio in una sola rata a fine anno perché la differenza tra l'importo delle rate pagate ed il corrispettivo per i consumi effettuati verrà addebitato o accreditato nella fattura finale vediamo quindi il mio caso concreto la mia esperienza per capire come funziona NEN quando ho caricato per la prima volta le bollette delle mie strutture ricettive ho ricevuto il preventivo che risultava più vantaggioso rispetto ai costi che sostenevo col precedente fornitore così ho deciso di passare a NEN per entrambi gli appartamenti che affitto su Booking ed Airbnb visto che i preventivi erano molto buoni sono passato a NEN in realtà anche per il contratto di casa dopo un anno quindi NEN mi ha inviato tre preventivi due per le strutture che affitto a turisti ed uno per casa mia per le due strutture che affitto ai turisti in realtà i preventivi erano più bassi rispetto all'anno precedente i consumi si erano ridotti e di conseguenza ho scelto di continuare ad avere NEN come fornitore di luce per casa mia invece il preventivo della rata mensile di NEN era più alto anche perché comprendeva la quota eccedente dei consumi dell'anno precedente in pratica durante il primo anno con NEN in casa ho consumato di più rispetto a quanto avevo consumato l'anno precedente così ho deciso di cambiare fornitore passando per casa ad Octopus Energy ne ho parlato in un video che ti lascio linkato qui sopra nelle schede in questo caso quindi l'ultima fattura che mi ha inviato NEN comprendeva anche il conguaglio da pagare ovvero quei consumi in più rispetto alla stima che mi era stata fatta da NEN quando ho sottoscritto il contratto a questo punto possiamo quindi tornare alla domanda che tutti si fanno ovvero NEN Energy conviene oppure no? la risposta ovviamente è dipende possiamo infatti vedere il prezzo al kilowatt di NEN e confrontarlo con quello di altri fornitori ma dobbiamo considerare che NEN Energy permette di avere un prezzo bloccato per 12 mesi indipendentemente dall'oscillazione del prezzo della componente energia del prezzo della luce questo però non significa che avendo il prezzo bloccato possiamo consumare quanto vogliamo non stiamo parlando infatti di un contratto telefonico con chiamato internet illimitato e un canone fisso da pagare il prezzo che andremo a pagare è sì bloccato con una rata fissa per 12 mesi ma questo prezzo si basa comunque sui nostri consumi dell'anno precedente di conseguenza se consumeremo più luce o più gas dopo 12 mesi la differenza l'andremo a pagare o in un'unica soluzione con la fattura finale o spalmata nei 12 mesi se decidiamo di passare a NEN in conclusione dunque NEN conviene se effettivamente il preventivo che otteniamo è vantaggioso e se cerchiamo un fornitore di luce che ci dà un prezzo bloccato per 12 mesi in modo da sapere esattamente quanto andremo a pagare ogni mese non dobbiamo considerare NEN come quel fornitore di luce in abbonamento che ci permette di pagare un prezzo fisso indipendentemente dai nostri consumi io spero dunque con questo video di averti dato tutte le informazioni che stavi cercando su NEN Energia e soprattutto di averti dato tutti gli elementi per capire se passare a NEN Energia conviene oppure no se hai altri dubbi, domande, se vuoi raccontare la tua esperienza sei come sempre il benvenuto qui sotto nei commenti se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile e ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella noi ci vediamo se vorrai con un nuovo video su questo canale ciao 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 ciao